Qualche volta mi piace ripensare alla magia che avevano i viali del monte. Più mi ci perdo, più mi convinco che ricordare come erano non è troppo diverso dal desiderare che rimangano così. Immutati, ma sempre differenti, pronti a rinnovarsi, anzi a crescere, proprio come noi. Cercando di trasformare il nostro presente nel futuro che vorremmo. Hai visto quante novità al Conad di Montecchio? Ampi ambienti completamente ristrutturati dove puoi trovare la pulizia e l'igiene di sempre in ogni reparto. Sì, bellissimo! Ormai è il mio punto di riferimento. Trovo sempre prodotti di qualità del nostro territorio molto convenienti. Per non parlare della grande professionalità del personale. E ti ricordo che al Conad di Montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto. Noi andiamo al Conad di Montecchio! Da più di un secolo sul territorio, macchini ceramiche è sinonimo di professionalità e consulenza specializzata nella vendita di materiali edili, pavimenti e rivestimenti, parquet, ceramiche ed arredo bagno delle migliori marche. Ogni giorno troviamo la migliore soluzione per ogni vostra esigenza. La nostra disponibilità, competenza e servizio non hanno prezzo. Laura e Marco ti aspettano presso lo showroom a Rio Salso di Tavuglia. Macchini ceramiche, sempre al vostro servizio. Buonasera a tutti i telespettatori di Rossini TV e benvenuti alla nona puntata di Insieme a Canestro, fortunato programma di basket dedicato alla VL giunto alla quarta stagione. Ricordo che potete seguirci in diretta sul canale 80 di Rossini TV, visibile in tutta la regione, sulla nostra pagina Facebook e anche in streaming sulla nostra app che vi invitiamo a scaricare e anche sul sito internet di Rossini TV. Avete quindi tante possibilità per seguire la trasmissione che parla della vostra squadra più amata. Grazie come sempre ai nostri sponsor, Conad Montecchio, Macchini ceramiche e Banca di Pesaro. E adesso passo alla presentazione degli ospiti di questa sera. Abbiamo con noi Alessandro Mengucci, responsabile dei rapporti con la tifoseria per la società Victoria Libertas. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Prego Alessandro, benvenuto e Mirko Faccenda, giornalista del Corriere Adriatico e di Radio Incontro. Buonasera, grazie per l'invito. Ciao Mirko, grazie, veteranissimo come me del pallacanestro. Abbiamo vissuto tante avventure insieme, poi magari ne parleremo anche di qualche aneddoto. Adesso passo la parola a Giovanni Zidda, anche quest'anno sarà lui ad indicarvi come mettervi in contatto con noi per porre domande e rispondere anche al contest che lanceremo fra pochissimo e che mette in paglio due biglietti per la partita di domenica 10 dicembre contro la Dolomiti Energia Trento. A chi risponderà per primo? A te la linea Giovanni. Buonasera a tutti, buonasera agli ospiti in studio, buonasera a te e a Betta. Come sempre il numero WhatsApp è 370-366-7210 oppure potete commentare nella diretta Facebook di Rossini TV. Ci tengo anche a fare gli auguri di buon compleanno a Rossini TV che ieri ha, possiamo dire, festeggiato i suoi sei anni di attività. Quindi invece insieme a Kenessa siamo giunti a una quarta stagione. Passiamo al contest di oggi che vogliamo sapere qual è il nome dell'azienda che prima di Carpegna Prosutto è stata main sponsor della VL e per quante stagioni lo ha fatto. Due biglietti per la partita di domenica alle ore 18.30, 10 dicembre contro Trento. Allora, eccoci qua di nuovo in studio con gli ospiti. Questa sera, siccome i tifosi chiedono sempre i giocatori quando vengono, perché non ci sono, allora dobbiamo dire che la società ci ha chiesto la cortesia per questo turno di risparmiare i giocatori perché si gioca sabato, la settimana è più corta, quindi già domani ci si muove verso Reggio Emilia, è una trasferta delicata, è importante, la concentrazione deve essere al massimo e quindi magari anche mandare a dormire i giocatori presto, non costringerli ad avvenire a un programma televisivo, lasciarli proprio focus sulla partita e quindi abbiamo accettato volentieri e in questo caso abbiamo ribaltato l'invito su Alessandro Mengucci perché comunque parlare dei tifosi e del pubblico è d'obbligo in una città come Pesaro. Alessandro, poi ne parleremo diffusamente, però se vuoi intanto dire un primo concetto sul tuo ruolo e quello che è stato un po' la tua accettazione di un ruolo delicato che prima non c'era dentro la società. Ma sì, diciamo che è un'idea che francamente mi è balenata da tempo, insomma, che avevo in mente di fare qualcosa per comunque contribuire a migliorare, diciamo, l'aspetto anche della partecipazione del pubblico all'interno del Palasport nei confronti della VL. Poi diciamo che nel 2020, nell'agosto 2020, mi è nata questa idea appunto di iniziare a seguire direttamente i rapporti con il pubblico e l'obiettivo era quello di ricreare, diciamo, entusiasmo, qualcosa di importante all'interno del Palasport. Poi diciamo che l'ho pensata nell'anno del Covid, quindi diciamo che per un anno sostanzialmente si è potuto fare molto poco come iniziativa. Esatto, non è stato un anno fortunato per ripartire. Per ripartire, però poi si sono incominciate ad elaborare un po' di idee, in collaborazione molto con Walter, magnifico, che mi ha dato una grossa mano in questa iniziativa e quindi è nata dapprima l'idea della Fan Zone, quindi di ricreare proprio un nucleo di ragazzini, proprio di bambini, insomma, da poter portare all'interno del Palasport e da lì diciamo si è rimesso in moto un serie di discorsi all'interno del Palas che hanno riportato sicuramente nella zona in particolare del settore K e del settore A una presenza di pubblico che ormai credo sia evidente a tutti che è una zona veramente molto focosa e molto calda all'interno del Palasport. Come era una volta. Come era una volta, l'obiettivo era di ritornare un po' ai fasti di un tempo, quantomeno da un punto di vista di presenza e di pubblico. Direi che la cosa è partita abbastanza bene, l'abbiamo messa in moto con un po' di difficoltà all'inizio perché non sapevo nemmeno io poi da dove partire, però alla fine con l'aiuto di alcuni, di un manipolo di, diciamo, di coraggiosi che mi hanno dato una mano, siamo riusciti a ricreare qualcosa e la cosa di cui sono entusiasta e anzi vorrei proprio cogliere l'occasione per ringraziarli in maniera convinta è stata di aver riportato al Palasport persone che magari non venivano più da, direi anche da decenni alcuni. Si erano disnamorate, no? Si erano disnamorati, sicuramente hanno riacceso l'entusiasmo e diciamo che negli ultimi due campionati sicuramente hanno riacceso l'entusiasmo e ogni partita danno una mano clamorosa alla squadra sia in casa che in trasferta. Assolutamente, perché il colore, anche la voce, insomma, è importante per far sentire un'atmosfera particolare ai giocatori che poi non hanno mai mancato di riconoscerla questa cosa. Assolutamente, assolutamente sì. Io dico che quando si vince in casa e c'è un pubblico che ti sostiene per tutta la partita sicuramente molto spesso puoi avere la possibilità di vincere qualche partita in più. Il pensiero che mi guida sempre negli ultimi due anni abbiamo raggiunto sempre il playoff per il rotto della cuffia, due anni fa differenza Canestri con Trieste. L'anno scorso sappiamo tutti com'è andata l'ultima partita, noi abbiamo vinto con Tortona e Bressa ha perso a Scafati. Ecco, se avessimo vinto una partita in meno tutti e due gli anni non saremmo mai arrivati ai playoff. Io voglio pensare che una partita almeno ci abbiano aiutati anche i tifosi con il loro calore, perlomeno in casa, a vincere comunque ad arrivare a un obiettivo dei playoff che comunque era qualcosa che mancava da tanti anni e che comunque rende sicuramente poi più contenti tutti i tifosi che vengono al Palace Sport. Certo. Mirko, ti coinvolgo solo per un aspetto personale che è quello di aver seguito l'AVL per tanti anni come giornalista della carta stampata, come radiocronista, qual è l'aspetto dove ti trovi meglio, quello che ti dà più stimoli, che ti fa più divertire, che ti fa sentire ancora dentro quel fuoco, che spinge anche una persona che fa il nostro lavoro, comunque tanti chilometri, non ho idea quanti chilometri fai all'anno, se vuoi ce puoi dire? Sono dai 30 ai 40 mila all'anno. E abbiamo detto tutto. Sono quei chilometri lì, perché poi non c'è solo la pallacanestro. C'è un agente di commercio. Più o meno sì. Qual è l'aspetto? Cosa ti piace raccontare più? La radio, un primo amore oppure scrivere? La radio è stato il primo amore, rimane il primo amore, anche perché quando gli altri ascoltano la radio sono legati a te, cioè sei tu che devi dire cosa succede, non c'è un'immagine televisiva in cui puoi dire, magari puoi parlare di altro perché ci sono già le immagini. La radio sei tu che devi raccontare e devi cercare di raccontarlo al meglio possibile. Io credo che il più bel complimento che abbia mai avuto sia arrivato da un ragazzo cieco in cui mi è stato detto che appunto lui riusciva a vivere la partita come se fosse lì. Bellissimo. È tanta roba onestamente. Sì, molto bello, davvero. Lo condivido perché anche io ho cominciato dalla radio e quindi è anche bello gestire i vari mezzi di comunicazione per poter raccontare appunto la storia della VL. Io l'ho fatto come te, prima in radio, poi scrivendo, adesso in tv, quindi ogni mezzo ha il suo fascino. E così voglio anche dire a chi ci guarda da casa che i ragazzi possono sognare di diventare giocatori, allenatori, dirigenti ma anche giornalisti perché alla fine Pesaro ha prodotto una generazione e magari tanti altri ancora potranno fare questo mestiere e magari dare sfogo alla propria passione per la pallacanestro, magari raccontandolo che è comunque sempre un compito importante in una città come questa. Allora, andiamo a parlare un attimo della partita di domenica scorsa. Entriamo nel vivo con gli highlight di VL Treviso che prego Andrea di mettere in onda. La partita con Treviso, Alessandro ha portato gioia perché come tutte le vittorie, ma non ancora forse la convinzione di avere una squadra così solida. Vista dalle tribune, anzi dal parterre dove ti trovi tu, cosa si percepisce di questo gruppo secondo te? Ma allora io devo dire una cosa, quest'anno per la prima volta sono stato al Forum di Milano nella partita della VL appunto contro l'Armani. Hai azzeccato quella giusta eh? Devo essere sincero, ho visto una partita che francamente mi ha molto impressionato in positivo. Certo. Una partita in cui veramente tutti hanno giocato alla grande, al cospetto di Milano che poi si può dire ha fatto delle scelte magari di cui poi si sono pentiti, ma chiaramente le hanno scelte loro, quel roster da mandare in campo. Quindi diciamo che ho visto un qualcosa di veramente eccezionale. Bellissima partita, vinta con pieno merito, direi dominata per almeno 35 minuti. Ora dico questo perché obiettivamente dopo aver visto quella partita, dico la verità, poi hai visto delle partite come quella con Napoli o comunque magari anche quella con Scaffati, con Venezia che sicuramente sono stati di livello molto più basso. Però voglio pensare che la squadra che abbiamo a disposizione sia più vicina a quella che ho visto a Milano rispetto a quella che poi abbiamo visto nelle partite in casa. La cosa che dispiace purtroppo è che giochi male in casa e lasci l'amaro in bocca a tutti gli oltre 5.000 spettatori che in queste prime giornate ci hanno sempre seguito. Fra l'altro numero impressionante, siamo sempre stati credo nelle partite in casa quelli che abbiamo avuto più spettatori. Quindi credo che questo sia una bellissima cosa. A inizio stagione credo sia veramente un bel risultato. Quindi ripeto, penso che la squadra come punti in classifica probabilmente abbiamo quelli che ci meritiamo. Diciamo che forse con Brescia e con Scaffati abbiamo buttato via due occasioni veramente buone. Avessimo vinto quelle saremmo stati veramente a un punto di classifica veramente importante. Stiamo parlando di qualcos'altro. Ma purtroppo le partite a volte si perdono anche negli ultimi secondi. Ma probabilmente se vai a parlare con tutte le altre squadre tutti ti diranno abbiamo perso quella partita di poco, potevamo essere più avanti. Quindi tutti hanno il loro. Quindi direi che per il momento mi sembra che siamo partiti in maniera diciamo decente credo come discorso generale, come punti in classifica. Adesso l'obiettivo è di cercare di fare perlomeno, di rendere proprio la Vitrifrigo Arena un fortino inespugnabile. L'obiettivo deve essere proprio quello. Speriamo di essere sempre più efficaci in casa e magari perché no prenderci anche qualche soddisfazione in trasferda. Mirko, senti, questi continui blackout in cui la VL si spegne sono ormai una costante di quest'inizio. Mazzola in questa settimana ha dichiarato che succede purtroppo anche in allenamento. Sempre meno rispetto agli inizi, ha detto Valerio, è che una delle chiavi potrebbe essere la crescita atletica. Secondo te condividi questo parere e a che punto siamo allora? Lo condivido perché viene detto da un giocatore che è lì tutti i giorni quindi sa come funzionano queste cose qua. Secondo me è una questione di lavoro, è una questione a livello inconscio nel senso domenica più 24, se un Treviso è arrivata a meno 10, ma è arrivata a meno 10 perché secondo me abbiamo un pochino alzato le mani, ma a livello inconscio non è che tu dici sei più 24 e dici beh adesso... Ti sei un po' rilassato. Esatto, io so che la partita è vinta, alzo le mani. No, succede, può succedere. La squadra forte ne dà 30 di punti invece che farsi rimontare. Poi dopo è anche vero che magari la squadra forte ha un nucleo di giocatori che li dà anni. Non è un caso secondo me che noi abbiamo vinto fino adesso partite quando gli italiani hanno sempre giocato bene. Chiaro. Quindi secondo me è un problema che con il tempo dovrebbe essere sempre minore insomma ecco. Ma dal punto di vista atletico tu hai notato che si sta crescendo un po'? Sì. Cioè la squadra all'inizio era un po' forse debole da questo punto di vista anche a rimbalzo a volte l'atletismo che ti porta a subire o a conquistarne di più. Sì, dal punto di vista atletico la squadra andrà sicuramente migliorando con il passare del tempo e sicuramente insomma ecco. Poi sai è anche una questione di aggressività perché la partita di Cremona per dire, cioè ci hanno dato via i palloni da davanti alla faccia, guardavamo. Questo può essere atletico quanto vuoi, però se non c'hai la giusta cattiveria, la giusta intensità, fai fatica. Certo. Giovanni abbiamo già qualche domanda? Sì, allora, guarda ci stanno continuando a chiamare, io ricordo comunque il numero WhatsApp. Sì, non telefonate ragazzi perché non possiamo mandarvi in diretta, scrivete messaggi. Ci stanno chiamando. Allora, Alessandro ci chiede Lorenzo se si può fare questa cosa soprattutto quando siamo in trasferta se la squadra va a onorare i tanti tifosi che viaggiano per tantissimi chilometri per questa amata maglia. È una cosa che si può fare, secondo te si può migliorare? Sicuramente in casa lo stiamo già facendo. Ci tengono molto. Allora, beh io direi, intanto ringrazio Lorenzo per la domanda. Direi sì, sicuramente è una bella cosa, va incentivata, va sicuramente spiegata questa cosa. In casa è già successo nella prima vittoria con Tortona, quindi è stato sicuramente un bel finale di partita. Sì, credo che anche fuori casa può essere una cosa che vada inculcata nei giocatori, vada fatta capire, perché comunque ringraziare chi ha fatto anche tanta strada, tanti chilometri, comunque sono sacrifici. Anche quando si perde, perché fondamentalmente comunque riconoscere la presenza di quelle persone, no? Certo, sicuramente. Magari quando si perde come a Cremone magari meglio che non ci siano andati, perché lì magari qualche presenza. Però potrebbe essere una cosa importante da fare come discorso, sicuramente. Ancora Giovanni? Sì, allora, nel riconoscere Alessandro Mengucci e Walter Magnifico, il merito veramente complimenti per aver creato questo bellissimo clima all'interno del palazzetto, vorrei capire se si può, e si può possiamo dire, aprire, incoraggiare anche i singoli giocatori come si faceva molti anni fa a, possiamo dire, tempi di gratis magnifico, non è a dire a essere fenomeni, ma sicuramente a incentivarli. Ma penso che intenda dire magari con dei cori fatti proprio per i giocatori. Ah, ecco, cori personalizzati che non si sentono più. Beh, penso che, sai, si faccia molto, allora, la VL diciamo che ha iniziato, perlomeno con i giocatori italiani, a dare un po' di continuità al roster. Ormai abbiamo Tambone che mi sembra sia al quarto anni con noi, comunque in generale i giocatori italiani sono tutti almeno con un'esperienza biennale qui alla VL. È chiaro che se tu crei un giocatore che si attacca alla città, alla maglia, credo che poi risulti più facile riuscire ad ottenere alcuni discorsi. Se lo meriterebbe anche il capitano, un coro, quattro anni qua. Potrebbe essere, sicuramente sì, è una cosa, una cosa importante. Con gli americani chiaramente diventa tutto molto più difficile perché poi se ne riesci, li tieni un anno, poi più di un anno non si riesce a fare. Anche questa potrebbe essere un'altra cosa, un altro suggerimento importante di cui prendo sicuramente nota come discorso. Ecco, a proposito dei tifosi, Andrea, se vuoi abbiamo un piccolo video che Alessandro ci teneva a far rivedere. Questo è il play-off dell'anno scorso con la Virtus. Guardate che spettacolo che era la curva in occasione dei play-off poi contro Bologna, figuriamoci, no? Questa è stata una serata veramente bella. Uno spettacolo di colore. Poi abbiamo selezionato alcune foto che vorrei farvi vedere perché questa è la trasferta di Milano, quindi la gioia di aver sbancato Milano, quindi di quest'anno, beato chi c'era. Questo invece è il giorno del raduno prima di partire per il ritiro. Anche qui guardate quanto entusiasmo, Baia Flaminia si era bloccato il traffico addirittura. Poi vi abbiamo fatto così, una chicca con due foto del passato. Questo è il vecchio Palace. Guardate com'era anche un po' le infrastrutture, queste balaustre di ferro, poi guardate in alto com'era, insomma, un ambiente veramente incredibile. E poi la chicca è questa foto qua che adesso giriamo. Questo è Marco Piccoli al quale tutti abbiamo voluto un mondo di bene. Di spalle il numero 15 è Nane Grattoni che ha giocato qua a Pesaro negli anni 80 e l'arbitro che ascolta Marco Piccoli con il microfono. Cioè vi rendete conto che cosa riusciva a fare il pubblico di Pesaro? Adesso io l'arbitro quello non l'ho riconosciuto Mirko. Però rendiamoci conto di che cosa riusciva a essere il pubblico di Pesaro. C'è un arbitro che si ferma ad ascoltare il capo degli ultra. Fantastico. Marco è riuscito anche in questo. Diciamo che probabilmente c'era anche una logistica, un palasport che ti permetteva cose di questo genere. Adesso sicuramente da questo punto di vista siamo magari un pochettino più in difficoltà a organizzare cose di questo genere. Però sicuramente sono cose storiche, che è sempre belle da rivedere, insomma, gli anni veramente mitici della VL. Ci sono delle novità per quanto riguarda le iniziative per questa curva che comunque è diventata veramente bella, devo dire la verità. Prima dalla fanzone, poi facciamo un applauso anche agli altri ragazzi perché altrimenti sembra di non riconoscere. Ma quello che è stato ricreato nel settore K era impensabile solo poco tempo fa. Quindi il fatto che tutti quei gruppi si sono riuniti di nuovo su un'unica bandiera. A me piace sempre, Betta ti ringrazio per questa domanda, ripartire un po' dalle origini di tutti. Io ho ancora impresso nella mente quello che successe nella partita, eravamo nel novembre credo del 2021, con Trento in casa. Banchi era arrivato da poco, perdiamo con Trento e mi ricordo che Banchi viaggiò diverse volte avanti alla panchina inneggiando, dicendo al pubblico di tifare perché proprio non sentiva, aiutati, c'è una cosa. E lui si lamentò molto di quella cosa. E lì, se ricordate ancora, c'erano un po' di limitazioni di Covid per entrare nel palasporto, non era una stagione ancora molto semplice e da lì mi è scattata l'idea di fare qualcosa di veramente concreto per il pubblico. Allora, si è partiti dalla fanzone perché da qualcosa di nuovo dovevi partire, da un'organizzazione, ricreare comunque un ambiente. Ed era più facile quello che farà pacificare tutti i gruppi. Sì, se vi ricordate, io mi ricordo benissimo, nel settore K non c'erano più di 10-15 persone a tifare in quel momento lì, era un settore veramente molto diradato come presenza. Ripartire dalla fanzone è stato molto complicato perché poi dovevi avere anche qualcuno che ti aiutava, che ti trovava la materia prima, chiaramente. Siamo riusciti a farlo, abbiamo creato un team di persone che mi hanno dato una grossa mano, L'Ape Andrea, Thomas Nobili, Graziano Sartini con i bis che aveva anche quindi la materia prima da cui partire. Poi due vecchi tifosi della prima generazione come Thomas Soli e Vincenzetti. Ho trovato queste persone ma per trovarle mi sono voluti alcuni mesi perché ho sentito tante persone, se mi potevano aiutare, molti, ma ci penso, vediamo, non ho più tanta voglia, non ho più l'entusiasmo, veniamo danni molto difficili, la VL non merita più di tanto, siamo stanchi, siamo stanchi. Ho fatto veramente fatica per partire. Incontri, colloqui, insomma è stato veramente complicato. Quelle persone che mi hanno aiutato siamo riusciti a ripartire dai ragazzini, dai bambini e credo che dai bambini che poi chiaramente vanno educati, vanno tirati su, non è che puoi pensare che ti si mettano a tifare ovviamente. E qui devo ringraziare, sono stati bravissimi i vecchi signori, dico signori perché hanno molti della mia età o poco più giovani o addirittura anche poco più grandi, si sono rimessi in moto e hanno ricreato qualcosa di fantastico, intanto come presenza. Diciamo che poi anche come colore, sicuramente ci sono riviste le bandiere, ci sono riviste gli striscioni, cose che mancavano da anni al Palace Sport. Il Palace Sport deve essere qualcosa in cui ci si diverte. Andiamo lì alla domenica per toglierci di dosso le difficoltà della settimana, del lavoro, i pensieri che abbiamo, bisogna divertirsi. Per divertirsi ci vuole qualcuno che faccia, diciamo, da sprone per far divertire il resto del Palace e chi di un gruppo organizzato, di una curva organizzata in un certo modo. Ma anche per sentirsi orgogliosi dei propri colori, della propria squadra. Ma per sentirsi orgogliosi di appartenenza, della propria città, della propria squadra. Quindi bravissimi tutti i vecchi gruppi che si sono riorganizzati, cercando di rimettersi insieme con grandi difficoltà perché poi ognuno di loro ha le sue idee, le sue tradizioni, i suoi modi di fare, le sue idee anche a livello di colore, magari non sempre bianco-rossi, qualcuno mettono maglia anche di altri colori. Questa è una cosa su cui ovviamente poi magari lavoreremo per trovare più omogeneità nel corso del tempo. Adesso l'importante è la presenza e i cori che fanno. Io sto notando ormai dalla stagione scorsa, da questa stagione qui, insomma, che cantano sempre, tifano sempre, non si fermano mai. Lo fanno in casa, lo fanno in trasferta perché tutte le trasferte dall'anno scorso a quest'anno non sono mai mancate. C'è sempre un manipolo più o meno numeroso di tifosi che tifano e rappresentano comunque la città. Poi chiaramente si può migliorare, sì, assolutamente, perché poi è stato difficile partire, ma adesso è più duro anche mantenere questa cosa perché non è semplice. Vorrei cercare di arrivare al punto tale per cui, ma più un sogno per il momento, che il tifo deve essere indipendente anche dal risultato della squadra. È molto difficile quello che dico, chiaramente, perché poi il risultato nello sport non è una componente, è una cosa fondamentale. L'importante è che la squadra combatta. Esatto, l'importante è che la squadra combatta. Sono d'accordo con te, Betta, la squadra deve combattere, deve far vedere che dà l'anima per questa maglia, per questa città, per questi colori. Ecco, io mi auguro che questa cosa sia passata molto bene perché abbiamo avuto l'esempio di Cremona, insomma è stata la settimana dopo di Cremona un po' complicata anche nel discorso con i tifosi, ma francamente, ti dico la verità, a Cremona sia stati veramente indecorosi come prestazione. Può succedere, capita, io penso che capiti anche a tante altre squadre come noi. Le squadre che cambiano di più roster, anche quest'anno molte squadre hanno cambiato in maniera importante i loro roster e vedo comunque dei risultati, anche domenica una Varese che perde di 43 punti con Tortona, la stessa Reggemiglia con cui andremo a giocare sabato, comunque ha preso un ventello a Venezia. Dopo ne parleremo. Voglio far intervenire solo Mirko su questo perché tu Mirko senti spesso i tifosi anche nelle interviste. Quali sono gli umori del pubblico dopo due mesi di campionato? Ma diciamo che i tifosi si aspettano sempre tanto ed è giusto che sia così perché fondamentalmente c'è ottimismo comunque, almeno quando io scrivo c'è voglia di incoraggiare la squadra, c'è ottimismo, poi chiaro che le battute di arresto come quella con Napoli, come quella Cremona fanno male, è normale, però c'è fiducia secondo me. C'è più fiducia che scetticismo secondo te in questo momento? Secondo me sì, secondo me alla fine sì, nel senso che ok, ci sono sempre un gruppo che contesta a prescindere questo, ormai è storico da anni, però la maggior parte della gente capisce anche le situazioni, capisce le difficoltà perché comunque avere cinque americani nuovi non è semplice, è vero che abbiamo un gruppo di italiani che è d'oro e che secondo me andrebbe tenuto anche per i prossimi anni. Questa sarà una bella sfida dopo una stagione così, trattenere questi ragazzi sarà veramente dura. Esatto, però ecco, secondo me con il tempo probabilmente non so se saremmo attrezzati per ripetere quello che abbiamo fatto negli ultimi tre anni, però sicuramente io penso che ci siano tutti i presupposti. Io concordo, penso che Mazzola abbia fatto una bella intervista questa settimana dicendo ma intanto raggiungiamo la salvezza e poi potremo diventare ambiziosi, cioè dire puntiamo alla salvezza non vuol dire essere rinunciatari, ma vuol dire mettiamoci intanto al sicuro e poi una volta che siamo al sicuro vediamo dove possiamo arrivare. Mi sembra una cosa logica da dire da parte sua che è uno che mi ha visto tanto. È un giocatore di grande esperienza, esatto, di grande anche carisma voglio dire, penso sia un personaggio veramente, cioè Mazzola basta vedere quello che è successo l'anno scorso dopo il 26 dicembre, quella maledetto infortunio che ha avuto che da lì ci ha condizionato buona parte della stagione. E anche il suo ritorno adesso a buoni livelli. Sicuramente ha dato una grossa mano, assolutamente. Sì, domenica ha fatto una partita clamorosa secondo me, non solo i nove rimbalzi, ma chi è a bordo campo mi dice che ci vedono delle cose. Io l'ho anche scritto, cioè dall'alto magari certe cose non si vedono, ma a bordo campo tu vedi che lui non si muove, cioè lui si mette in difesa dietro l'avversario, l'avversario spinge, lui non si muove, non si muove, lui non si muove d'un pelo e poi ha quella esperienza, quella grandissima esperienza, che magari mette un pochino la gamba più avanti, c'è un colpo che non si vede, è bravo Valerio che sei tornato con noi come ti volevamo. Senti Giovanni, hai ancora qualche domanda? Sì, allora, Angelo ci commenta su Facebook, complimenti per la trasmissione, ciao Betta, un saluto a tutti voi, in particolare a Mirko perché quando siamo in trasferta posso seguire le radiocronache, ci scrive ugualmente sempre Ellen, complimenti a Mirko Facendo, persona straordinaria di elevate, dotti, professionali. Sempre a Lorenzo, complimenti. Troppo buona, grazie, grazie, grazie. Complimenti anche da parte di Lorenzo da Macerata, complimenti dico a Mirko Facendo, dico grazie per le sue radiocronache perché da Macerata segue sempre le radiocronache in diretta. Vedi che ancora la radio funziona? Vedi che la radio funziona. Nonostante internet, gli streaming, ancora c'è qualcuno che sente la radio. Pochi ma buoni. Quindi buon per te Mirko. Grazie, grazie, troppo buoni. Alessandro Stefano ci chiede, la Vuelo il prossimo anno potrebbe partecipare ad una Coppa europea, sicuramente può incentivare degli sponsor secondo te? Ma io penso che, allora anche qui dobbiamo sempre partire da qualche anno indietro. Allora noi abbiamo faticato tantissimo fino a due anni fa, ci siamo sempre salvati per il rotto della cuffia. Anzi, la stagione del Covid, drammatica come è stata, se non ci fosse stata a livello sportivo, noi probabilmente oggi saremmo in A2, non lo so, non ci saremmo più adesso, non lo so ovviamente, però ci sarebbero aperti degli scenari clamorosi. Quindi l'essere già rimasti sempre nella massima serie, anche in anni in cui tante piazze hanno purtroppo dovuto abbandonare la serie A o sono scomparse, penso Caserta, penso Capodorlando, cioè città che proprio non ci sono assolutamente più. Livorno, quanto ci ha messo per tornare a buoni livelli. Quindi già noi abbiamo ottenuto dei risultati secondo me eccezionali, ora ci stiamo ricominciando un pochettino negli ultimi due anni a riabituare a vedere qualcosa di più interessante, un paio di finali di Final 8 di Coppa Italia, due volte di seguito ai playoff, quindi queste credo che siano già cose importanti. Ecco, secondo me adesso dobbiamo guardare a cercare se siamo bravi, se riusciamo, come ha detto Mazzola, mettiamo in sicurezza la salvezza, poi pensiamo anche ad altre cose. Io credo che dobbiamo essere bravi a riconsolidarci a livello nazionale, ritrovare una posizione all'interno, diciamo, del campionato italiano. Guardare all'estero, secondo me, in questo momento lo vedo comunque qualcosa di molto lontano Io dico anche sì, perché se tu non giochi l'Eurolega o anche l'Eurocup, che è una coppa di alto livello. Poi la gente ci viene a vedere la Champions League della FIBA, per non dire della FIBA Eurocup, che è la quarta coppa per importanza, sono coppe di un livello più basso, con avversari sconosciuti, con trasferte lontanissime che ti costano un sacco di soldi e zero spazio sui giornali. Cioè bisogna pensarci bene, io non sono contro la partecipazione alle coppe, dico solo che è rischioso. Secondo me prima dobbiamo consolidare una nostra presenza, diciamo, costante a livelli un pochettino più alti rispetto a quelli dei nove anni prima degli ultimi due, insomma. Quindi secondo me in questo momento potessimo fare dei campionati come gli ultimi due sarebbe già buono, secondo me. Sarebbe già tanto. Ok, apriamo adesso una pagina un po' spinosa. Chiedo ad Andrea, al nostro regista, di trasmettere il video su Ray McCallum. Vogliamo parlare un po' di questo giocatore perché tanto è inutile negarlo che in questo momento è un caso. Alessandro Tagliato-Shilling, il giocatore su cui si discute di più adesso in città è proprio lui, no? Un ragazzo con una carriera importante che però sta faticando a trovare la sua collocazione in questo campionato. Al di là dei fattori tecnici, tu lo vedi in difficoltà sotto il profilo umano, caratteriale? Ma allora, anche qui, se torno di nuovo alla partita del Forum, veramente ha fatto una partita eccezionale. Se non ricordo male ha fatto una doppia-doppia come punti, come dieci assist. Era stato il giocatore che aveva smazzato più assist in quella giornata di tutto il campionato. Quindi io lì l'ho visto giocare veramente bene. Forse è stata l'unica partita che ha fatto a livelli importanti fino adesso e quindi su nove partite una sola sicuramente magari è poco. Io penso che il suo passato credo che sia un passato importante. Ha giocato, se non erro, sei-sette stagioni in NBA. Ha giocato comunque a buon livello anche in Europa. Quindi, francamente, è un giocatore ancora a una buona età e comunque... Sì, 32 anni. Insomma, ancora credo che sia in un'età assolutamente valida per poter reggere a questi livelli. Io, dico la verità, penso che sia un giocatore che non può che migliorare, secondo me, andando avanti. Poi, difficoltà di ambientamento. Sai, delle volte ci possono essere difficoltà magari a livello personale, a livello familiare. Tante cose che magari noi non possiamo riuscire a capire dall'esterno. Per esempio, lui è da solo, mi pare. Già questo non aiuta. Per esempio, Banford, che abbiamo visto qua a giovedì scorso, è qui con la moglie, tre bambini, anche in un momento di difficoltà, la famiglia, i ragazzini che quando torna a casa lo distraggono. Da solo, se magari stai giocando male e sei criticato, di sicuro non stai bene. Diciamo che delle volte basta poco per svoltare la stagione di un giocatore. Speriamo che nelle prossime settimane ci possa iniziare a dare il contributo che tutti noi da lui attendiamo, sicuramente. Mirko, senti, Buscaglia per la prima volta lo ha fatto partire dalla panchina. E tutto sommato, quei 18 minuti sono stati, forse a parte la partita di Milano che citava prima Mengucci, i più produttivi, no? Sinora. Pensi che possa essere la chiave per recuperarlo o comunque secondo te non è ammissibile che quello che doveva essere il play titolare incida così poco nelle sorti della squadra? No, secondo me il fatto che sia partito dalla panchina lo ha ulteriormente migliorato, perché solitamente i giocatori che hanno queste carriere così importanti, sai, partire dalla panchina brucia sempre. Nonostante ti dicono entri per dare la scossa, però brucia. A uno che ha giocato in NBA, partire dalla panchina brucia. E secondo me quella è stata una mossa che l'allenatore ha fatto funzionare. Secondo me sì, perché poi è entrato. Era deciso. Era deciso, è entrato subito in partita, ha preso iniziative rispetto ad altre volte che magari sta lì palleggia, palleggia, palleggia. Ha attaccato al ferro, quello che ci si aspettava da lui. Esatto, esatto. E onestamente ha fatto un canestro, che prima abbiamo rivisto, alla fine del terzo e quarto. Quello lo fai solo se hai il talento. Esatto. E quello è il giocatore che noi cercavamo e speravamo di vedere. E che speriamo ancora di vedere. Speriamo ancora di vedere, perché ancora il campionato è lungo. Come diceva Alessandro prima, delle volte basta poco per svoltare una stagione, per svoltare un momento no. Quindi, sai, ci sono giocatori che magari sono stati in alcuni posti e hanno fatto da matti. Frank Gaines. Mi viene in mente Frank Gaines. Che da noi spaccò i ferri. Da noi gli spaccavi i ferri. A Caserta fece un precampionato clamoroso. Inizia il campionato e non vedeva più il canestro. No, ma ha vinto la classifica dei marcatori e da noi non faceva canestro anche in una vasca da bagno. Come è possibile? Esatto, perché succedono queste cose qua. Chiediamolo anche ai nostri tifosi. Che ne pensate? Ray McCallum si riprenderà? Cosa vi aspettate da lui? Chiediamolo anche a loro. Ribaltiamo la domanda per una volta noi ai tifosi. Giovanni, ancora qualcuno? Sì, allora, intanto sono Riccardo Trebbi, commenta su Facebook, è d'accordo con te sulle coppe. E bisogna sicuramente aspettare. Le chiamate ci arrivano dal signor Fattori che chiedono a Mirko Faccenda. Buonasera, sono il signor Giancarlo Fattori. Vorrei chiedere al signor Mirko Faccenda cosa pensa di giocare solo con stranieri come si giocava una volta. Solo con stranieri? Cioè con due stranieri? Ah, con due stranieri. No, no, con tutta la squadra fatta di stranieri. Veramente, non so di quale campionato. Una squadra con tutti i stranieri non si è mai giocato. Adesso io non lo so. Cioè se mi si chiede cosa penso del basket di oggi in cui ci sono cinque stranieri rispetto a una volta che ce n'erano due, ok, ma se no tutti i stranieri non si è mai giocato. Chiedi di riformulare. Chiediamo a Giancarlo se riformula meglio la domanda, magari li possiamo rispondere. Esatto, sì, sì. Invece Alessandro ci scrive Claudio Tommassoli. Belle parole che sto sentendo veramente stasera sul tifo. Sarebbe veramente bello fare una giornata bianco-rossa con sciarpe e maglie bianco-rossa per creare sicuramente più entusiasmo. Dai, allora, lanciamo la proposta di Claudio. Sicuramente un obiettivo. Allora, adesso dobbiamo andare per gradi anche qui. Ma la sciarpe l'avete regalata agli abbonati, no? Esatto, hai ragione, è vero. E quindi portiamola al palazzo. Però adesso bisogna ricreare colore, sicuramente. Questo è il momento in cui c'è la presenza, ma magari manca un po' di armonia a livello proprio di colore, a livello di gadgettistica, tante cose. Sai, è vero, la sciarpe è stata data, è stata data a più riprese, alla fanzone, piuttosto che quest'anno è stato proprio il gadget della campagna abbonamenti. Poi però, quando si arriva al palazzo sport, chi se la dimentica, chi non ce l'ha, chi non la mette. Insomma, anche lì bisogna mettere in Milano. Io non posso sopportare a Milano di vedere tutti i milanesi con la maglietta identica. A Pesano non riusciamo a fare una cosa così. Certo, è uno smacco. Bisogna lavorare anche su quell'aspetto lì, sicuramente, come discorso. È un altro punto, sicuramente, dove possiamo e dobbiamo migliorare. Allora, adesso allarghiamo un po' l'obiettivo sulla classifica di Serie A. Andrea, se vuoi mettere la classifica in visione. Ecco, Alessandro, nonostante abbia vinto, la VL è rimasta in dodicesima posizione, a conferma di quanto sia equilibrata la Serie A di quest'anno. Credi ancora nella possibilità di entrare nelle Final 8 di Coppa Italia o pensi che sia un traguardo per noi irraggiungibile? Ma bisogna essere molto, sono mai concreti, ci mancano sei partite alla fine del girone di andata. Per entrare, diciamo, nelle prime otto bisogna raggiungere 14-16 punti. A 14 forse ci arrivi come ottava, settima in genere succede sempre così. Per arrivare a 14 dobbiamo vincere tre delle prossime sei partite. Alessandro, siccome si occupa di conti, giustamente, lui è sempre molto razionale e matematico nelle sue risposte. C'è poco da ragionare, ormai siamo a un mese e mezzo, grosso modo, dalla fine del girone di andata. Quindi bisogna vincere 3-4 partite. Diciamo che, beh, la vedo dura. Secondo me è anche vero che obiettivamente, credo, adesso abbiamo fatto 4 su 9, dovremmo un po' migliorare questo ritmo, però è anche vero che magari abbiamo delle partite, teoricamente, tranne quella con la Virtus, direi che le altre ce le possiamo giocare sulla carta tutte. Quindi vediamo quello che succede. Andiamo partita per partita, secondo me ancora la cosa è assolutamente fattibile. Mi sembra che ci sono 7 squadre fra i 10 e gli 8 punti. 8. Da 12 a 8. Ecco, da 12 a 8. Da 12 a 8 ci sono 8 squadre. Eh, ci sono 8 squadre, ci sono 3 squadre a 10, 1 a 12, 4 a 8. Ma sapete che anche Milano praticamente rischia di rimanere fuori, ti immagini? Milano rimane fuori dalle final 8. Sono gli scontri diretti dopo. Sono gli scontri diretti. E' lì che farà la differenza. Esatto. E purtroppo Pesaro ha perso con Scafati una partita sanguinosa. Diciamo che se posso dire una cosa, delle 4 partite che abbiamo vinto, diciamo, fra virgolette, abbiamo vinto quelle sbagliate. Nel senso che invece che vincere magari con Milano era meglio vincere con Napoli. Barra con Scafati o con Cremona. Perché poi credo che sarà con queste che ci dovremmo confrontare nel corso della stagione. Sarebbe bello potersi confrontare con Milano. Cosa vuol dire? Che abbiamo fatto delle cose magari al di sopra. Oppure vuol dire che Milano stava facendo disastri. Stava facendo disastri clamorosi. Mirko, senti, tu invece chi indichi come squadra sorpresa dopo 9 giornate? Quale invece la sorpresa in negativo, la squadra delusione? Allora, la delusione treviso. Ma proprio senza sé, senza ma. Perché comunque ha allestito un roster di buon livello. Sì, è vero. Perché Mezzanotte, Harrison, giocatori che comunque a Brindisi hanno fatto la differenza. Anche Bowman. Bowman. Bowman, sì. Tanti giocatori che poi costicchiano tra l'altro. Non è che sono giocatori che sono arrivati con un panino. Certo. La squadra sorpresa ti potrei dire anche la stessa Scafati. Perché no? Una squadra che... o la stessa Pistoia che tutti a inizio stagione dicevano... Davano per retrocessa. Davano per retrocessa. Contro delle disperate, no? Diretto. Treviso, Brindisi. Vediamo. Se Treviso riesce a vincere questa partita, forse si rimette incareggiata. Altrimenti la vedo veramente grigia. Comunque anche loro hanno cambiato dei giocatori. Ma ad esempio il nostro Justin Robinson a me è sembrato veramente fuori forma. Domenico. Oli Zevicius già meglio. Adesso anche Brindisi sta cercando di cambiare. Oggi ho visto che uno dei due stranieri che Treviso ha tagliato gli anni è andato a Varese. Quindi grossi movimenti. Booker lo stesso ha trovato posto in Israele. Quindi i due giocatori che Treviso aveva tagliato sono già ricollocati. Quindi forse non erano neanche così male. Però purtroppo non ha funzionato. Sai, probabilmente anche gli infortuni. Perché ci sono formazioni che hanno avuto un sacco di infortuni. Brindisi per esempio. Noi l'abbiamo battuta. Aveva due americani fuori. Poi si sono fatti male altri giocatori. Qua Juan Johnson. Treviso, stessa cosa. Sassari. Sassari ragazzi ha sei punti. Ma c'è una squadra che non può essere del valore di sei punti. Treviso francamente è molto strano. Anche perché l'allenatore che ha preso. Comunque D'Angelo Harrison, Zanelli, Bowman. Li conosceva tutti molto bene. Quindi in teoria. Se sai, dei giocatori spostati in un altro contesto. Non è detto che magari a Brindisi quel gruppo lì ha funzionato. Messo a Treviso magari non funziona. Non so per quale motivo. Però a volte andare sempre dai propri scudieri può anche non essere la scelta giusta. Sai, poi il problema diventa che quando incominci a perdere nove partite di seguito, anche domenica c'è stato qualcosa a fine partita con i loro tifosi. Un po' di maretta c'è stata. Io ero lì, domenica c'è stato un aspro confronto tra Harrison in panchina e i tifosi. Con Harrison che addirittura qualcuno ha detto vi aspetto fuori. Era già successo a Treviso. Era già successo a Treviso. Tu hai giocato una partita orribile, quindi devi solo star buono e zitto. E pensare... Però la frustrazione poi dopo porta a queste cose. Esatto. La cosa più divertente, adesso io non voglio dire chi è perché non posso, però... So che negli spogliatoi qualcuno della nostra società è andato un po' a rimbeccare Gioffre dicendo però quello che avete detto, che il vostro campionato cominciava a Pesaro, non ci è piaciuto. E ci sono un po' beccati. Quindi questo vuol dire però la passione anche, l'orgoglio. Non è stata una dichiarazione elegante. Cioè nel senso tu non puoi 15 giorni fa dire il nostro campionato inizia da Pesaro. Ma secondo me... Ma avete letto poi Vazzoler, presidente Vazzoler ha detto la Caporetto l'abbiamo già passata a Pesaro. Adesso è ora di andare sul Piave a vincere questa partita, per domenica. Non invidio treviso in questo momento. Ormai non hanno più scelta voglio dire. Devono cominciare a vincere assolutamente. Bene, allora Giovanni c'è ancora qualche domanda? Abbiamo sì, due domande. Claudio Ortolani ci commenta su Facebook. Buonasera, Rosini TV e i graditi ospiti. Caro Mirko, grazie per tutte le radio cronache e nessun commentatore televisivo ha la tua professionalità. Grazie al signor Mengucci per la sua gentilezza verso noi tifosi. Invece per McCullum sicuramente ha bisogno di un po' più di fiducia e ancora non si sta trovando nel gioco. Ultimamente Bamford lo considera veramente bene, gli sta dando qualche consiglio, speriamo, bene nelle prossime partite. A proposito di Bamford, oggi l'ho rivisto col monopattino. No, finita la conferenza di Buscaglia. Che l'aveva detto qua, no? Finita la conferenza di Buscaglia, erano le tre e mezza del pomeriggio e lui con la giacca e il cappuccio è partito col monopattino dalla vitrifrigo per andare a casa. Io gli ho detto per favore stai attento perché se qualcuno ti mette sotto qui è la fine. E lui dice che gli piace andare così e lasciamo andare. Anche Matteo ci scrive comunque che il talento non si può discutere, quello si vede, però adesso speriamo si costruisca meglio. Ci chiede una signora, su WhatsApp ci scrive, mi piacerebbe sapere da signor Mirco Faccenda, se possibile, e l'allenatore che qualche anno fa allenava la Scavolini e Giancarlo Sacco che fine ha fatto? Allora, Giancarlo Sacco è a Latina, il problema è che Latina non c'è nel Palasport e rischiano di essere radiati. E stromessi nel campionato. Che peccato. Poi dopo aveva cominciato anche con una vittoria Giancarlo Sacco, il problema è che poi dopo mancavano dei giocatori. Situazione difficile, salutiamo Giancarlo e gli facciamo le bocca al lupo, se per caso ci ascolta. Allora, andiamo adesso a parlare della partita che ci aspetta, con gli highlight di Venezia-Reggio, per vedere e studiare un po' la nostra avversaria. Quindi chiedo anche ai tifosi se vogliono fare un pronostico, vinciamo o no a Reggio Emilia? Scrivete quello che vi pare, vinciamo o perdiamo, di quanto vinciamo o di quanto perdiamo, e ci divertiamo a vedere se qualcuno indovina. Alessandro, Reggio viene da due sconfitte consecutive, all'overtime in casa con Tortona e poi una batosta, insomma, in trasferta a Venezia. Di solito però gli animali feriti sono molto pericolosi. Oppure pensi che la VL possa inserirsi in questa mini-crisi della Uno Tels? Ma allora, anche la Uno Tels è una squadra che ha cambiato tanto quest'anno, a partire dall'allenatore, ma comunque anche il roster è cambiato molto. E io credo che le squadre che cambiano molto, comunque, per la prima parte di campionato un po' di difficoltà la trovano sempre. Credo che anche Reggio Emilia, dopo una, direi, buona partenza, adesso ha avuto due passaggi a vuoto. È una partita che, secondo me, ce la possiamo sicuramente giocare. Ripeto, dipenderà molto da noi. Se andiamo con l'atteggiamento combattivo, giusto, con la voglia veramente di sbucciarsi le ginocchia, secondo me possiamo tranquillamente competere anche con Reggio Emilia. È un campo difficile, un campo dove il tifo si fa sentire molto, però saremo presenti anche noi, con una buona rappresentanza di tifosi. Quindi penso che è una partita che si può tranquillamente giocare, possiamo dire la nostra, sicuramente. Mirko, senti, il nuovo corso deciso da Col de Bella ha comportato la rinuncia a Cinciarini, che era il leader della squadra. Chi ha raccolto il testimone del play di Pesaro, secondo te? Ma, loro hanno l'americano Weber, che chiaramente è il playmaker titolare, però io, onestamente, prima di dar via uno come Cinciarini ci avrei pensato tanto. Poi lui, Andrea è andato a Saragozza, sta facendo la sua stagione, però dare via il miglior assistman del campionato della stagione precedente secondo me è pericoloso, perché se poi le cose non vanno come devono andare, sai. E che quando magari arriva un nuovo dirigente vuole provare a cambiare corso, no? Per cui, sai, la squadra era in mano ad Andrea da alcuni anni, così, provare a... Sì, lui ha cambiato anche via Branca, non solo il corso, perché praticamente ne ha riconfermati due, Vitali e Cipolla, quindi il resto, il resto... Anche Olisevicius, onestamente, visto domenica, non si capisce come mai non abbia trovato posto a Reggio. Sinceramente, bel giocatore, forse magari un po' lento, però, insomma, dai, non si può discutere la sua tecnica e il suo tiro. No, no, esatto, esatto. E poi, voglio dire, tenere fuori due giocatori così vuol dire che comunque ne hai, e la potete spiegare. Io la cifra non ve la dico, ma vi dico che è una cifra... La transazione di Olisevicius è stata pesante. Ma anche quella con Cinciarini, perché comunque erano due che avevano stipendi alti, alti, alti. Ripeto, cifre non ve le dico, però, insomma... Giovanni, ancora per te lo spazio, se vuoi. Dopo Milano, il regalo più bello, ci dice, per i tifosi sarebbe sotto Natale quello di vincere alla Segafredo Arena, solo così si potrebbe riaccendere il feeding con i tifosi, che ancora, forse, un po' quest'anno manca. Ora che la curva è tornata a farsi, a rifarsi, possiamo dire, dopo parecchio tempo, sarebbe doveroso anche, secondo il nostro ascoltatore, forse fare qualche investimento un po' più all'altezza e di queste aspettative, sicuramente come tifosi speriamo che vada meglio il tutto. Alessandro, qui... Mi intende, non capito, come giocatore, forse... No, lui dice, visto la passione dei tifosi, si spererebbe in un passo avanti della società. Ecco, su questo tu cosa pensi? Cioè, questo budget che si fa fatica a incrementare, potremmo un giorno avere... Non dico lottare per lo scudetto, perché ormai le cifre che investono Armani e Zanetti sono irraggiungibili per tutti, no? Però, ecco, non fare un passo indietro. Allora, io non penso che... Allora, se guardiamo Armani e Zanetti... C'è partita. Non c'è partita, cioè allora, vabbè, usciamo e ce ne andiamo tutti. Noi credo che dobbiamo guardare ad altri esempi, cioè se andiamo indietro di qualche tempo, insomma, la stessa Trento che allenava Buscaglia, voglio dire, no? Si è fatta due finali scudetti, comunque sicuramente con un budget interessante, ma non eccelso, voglio dire. Anche Sassari. Quindi Sassari. La stessa Cremone ha fatto degli anni comunque importanti, voglio dire, sia in Coppa Italia che in campionato, Reggio Emilia. Mi ricordo la Pistoglia di qualche anno fa, che comunque ha fatto più volte i play-off, è arrivata, mi pare, una serie play-off con Milano, proprio tirata alla quinta partita, se non ricordo male. Quindi secondo me gli esempi devono essere quelli. Il budget, allora anche qui dobbiamo capire bene le cose. Allora, se prendiamo le società di basket che hanno un proprietario, sono quelle chiaramente che abbiamo già detto, piuttosto puoi prendere Venezia, puoi prendere Tortone, è chiaro che lì parliamo di cifre veramente importanti, ma c'è un proprietario. Senza un proprietario devi fare forza su un consorzio che, bene perché se non ci fosse non ci sarebbe più nemmeno il basket nella città, però poi è anche vero che il consorzio fa fatica per decidere. Ormai siamo arrivati ad essere in 34, se non sbaglio, e mettere insieme 34 teste quando è ora a fine stagione di riconfermare il budget non è semplice perché comunque si perde del tempo. Tutti non rinnovano mai per più di un anno, quindi queste sono cose sicuramente difficili. Questo sarebbe importante. Cioè come abbiamo cercato di fare dei biennali ai giocatori, bisognerebbe fare dei biennali ai consorziati. Se guardo il passato, quando siamo arrivati, insomma 10-11 anni fa eravamo con dei budget che erano intorno al milione o poco più, adesso si è arrivato quattro volte tanto. Insomma secondo me abbiamo fatto dei progressi veramente eccezionali. È chiaro che ci vorrebbe secondo me un proprietario, ma dico di più deve essere anche un proprietario della zona, che si è guidato da tanta passione, perché poi se guardiamo anche i main sponsor che abbiamo avuto negli ultimi anni, sono comunque tutte aziende non di questa zona, con il bene e il male che questo ti può portare. Diciamo che non c'è quella passione smisurata che magari può avere un imprenditore qui della zona. Trovarne però uno non è comunque molto semplice. perché Tortona è una città anche più piccola di Pesaro, eppure ha trovato la sua gallina dalle uova d'oro come noi un tempo trovavamo Scavolini. Non è facile, non tutti possono avere Armani a Milano o Zanetti a Bologna, però è neanche Brugnaro a Venezia che è pure sindaco, insomma voglio dire. Però magari un gavio che nasca nella tua città o perlomeno nella tua regione. Ma guarda, allora se guardiamo il gavio della situazione potremmo averlo sicuramente anche a Pesaro, il problema è un altro, devi avere anche un imprenditore che abbia la passione, la voglia di buttarsi nello sport, nella palacanestro. Anche questo è un'altra componente fondamentale, perché non è solo una questione di soldi, è anche una questione di passione, di voler fare qualcosa di importante per la città dove vivi, dove lavori. Anche perché oggi giochi per il terzo posto. Eh sì. L'estate parto un tuttiè, però Ferrari parte un mese prima per vincere la Coppa Italia, poi prende 40 dalla Virtus e si arrabbia, dice oh forse ho speso, ma anche quest'anno mi sa che facciamo fatica. Però a Brescia si stanno divertendo in questo momento. Certo, però devi partire dal fatto che fino a quando ci saranno signor Zanetti, signor Armani, tu giochi per il terzo. Poi puoi avere una botta di fortuna che magari una delle due, però sulle sette partite, sulle cinque partite, i valori vengono fuori. Assolutamente sì. Però ecco, io penso che i tifosi non vogliano magari sentirsi dire dopo due anni consecutivi di playoff, quest'anno puntiamo alla salvezza, perché viene interpretato come un passo indietro. Invece di solito uno, quando vuole sognare, vuole almeno mantenere lo stesso obiettivo, no? Secondo me, guarda, ritorno sul discorso di Mazzola che facevi all'inizio della puntata, secondo me è giusto in questa fase mettersi le spalle ben riparate, e quindi stare tranquilli per dire intanto la salvezza è a posto. Poi da lì a puntare ad arrivare al playoff, veramente... Si fa sempre in tempo. Si fa in tempo e credo che siamo tutti lì, cioè in questo momento ce la possiamo giocare alla grande. Se gli italiani continuano a giocare così, ecco, una parola la vorrei spendere, perché veramente stanno facendo un campionato favoloso. Io penso che abbiamo un lotto di italiani che è veramente di assoluto livello fra tutte le squadre di Serie A. Iniziamo la lancia a favore alla società. Questi ragazzi sono stati scelti, confermati, trattenuti qui perché, hai detto prima di Tambone, quattro anni, ma Totè è stato riportato a casa dopo un anno, era andato a Bologna, poi a Napoli, è stato riportato qua, dove sta bene. E si vede benissimo, poi l'ho raccontato anche qui. Visconti un buon investimento, secondo me Mazzola averci creduto è stata una mossa intelligente, perché comunque un ragazzo che è arrivato, non dico a fine carriera, però insomma non ha ancora tanti anni da giocare, se adesso gli americani si inseriscono bene, arrivano magari a dare delle prestazioni sicuramente più adeguate di quelle che stanno facendo in questo inizio di campionato, secondo me potremmo toglierci anche delle discrete soddisfazioni. Sì, perché ripeto, è talmente sottile la linea tra playoff e salvezza, che vinci due partite, sei dentro, ne perdi due, sei in basso, quindi ancora può succedere davvero di tutto, ci sono 21 partite, sono un'enormità, cioè persino Treviso che ne ha perse nove, come facciamo anche noi qualche anno fa, se vi ricordate, primo anno di Coach Luca Dalmonte, andiamo a vincere la decima a Cremona, e poi ci siamo salvati, quindi può succedere ancora tutto il contrario di tutto, è lunghissimo. Allora Giovanni, prima di ridarti la parola, prendiamo un attimo di fiato per aprire l'album dei ricordi, anche perché sono le 22.16, come sempre il tempo vola, quando parliamo della nostra amata WL, e oggi per l'album dei ricordi vi regaliamo una pagina dedicata a Joe Blair. Ancora una volta ringrazio Claudio Iacchini e il suo canale WL Pesaro History, giocatore che qui faticherete a riconoscere, perché non ha i riccioli, ma tra un po' lo vedrete, come ce lo ricordiamo, Joe Blair nasce il 12 giugno 1974 ad Akron, nello stato dell'Ohio, prodotto di Arizona University, raggiunge le Final Four NCAA nel 1994, e questo lo proietta al draft con buone possibilità, infatti viene scelto da Seattle Supersonics al secondo giro con la chiamata numero 35. Nella NBA però non giocherà mai, sbarca in Europa al Portez, ma la sua avventura dura solo tre partite a causa di un infortunio. Una volta guarito, si ricicla con gli Harlem Globetrotter, di cui diventa un beniamino nelle loro fantastiche esibizioni. Nel 98 approda in Serie 2 italiana a Biella, e con una grande stagione si guadagna la chiamata al piano di sopra da parte della Scavolini, dove forma un asse play-pivot eccezionale con Melvin Booker raggiungendo i play-off. Si trasferisce quindi al Paux all'unico, ma l'anno seguente torna a Pesaro, dove riforma l'accoppiata con Booker e vince la classifica dei rimbalzisti. Con Melvin giocherà ancora in Turchia, l'Ulkeri Istanbul, vincendo due coppe nazionali e ottenendo la prestigiosa nomina di MVP nel regular season dell'Eurolega 2002-2003. Passa poi all'Olimpia Milano e termina la carriera in Russia nel 2009 allo Spartak San Pietroburgo. Oggi Joe Blair è l'apprezzato viceallenatore dei Washington Wizards nel gennaio 2022, qui lo vedete com'è oggi, complice alla malattia del suo head coach, ha avuto la soddisfazione di vincere la sua prima partita da capo allenatore nell'NBA battendo i Philadelphia 76ers. Se Joe fosse all'ascolto in questo momento, lo salutiamo, è stato un grande personaggio, oltre che un grande giocatore, Mirko. Sì, sì, sì. Poi un giocatore che sapeva l'italiano, sapeva la lingua, sai, un po' come Anosiche. Anosiche, il primo anno tanti sforzi è, il secondo anno era Varese, il terzo anno a Varese parlava in italiano perfetto. Cioè quei giocatori... Con cui puoi comunicare. Puoi comunicare, ma a cui piace anche capire dove sono, in che realtà sono. E piace calarsi nella realtà in cui sono. Esatto, esatto. Bene, allora Giovanni, se hai ancora qualche domanda, poi sveleremo anche chi ha vinto i due biglietti per la partita con Trento. No, allora, volevo fare comunque gli auguri a Darren Day, che oggi fa... Giusto. ...compi gli anni, quindi la leggenda della VL. Possiamo dire la soluzione del contest. La società, l'azienda, prima di Carpegna Prosciutto, main sponsor della VL, è stata Consult Invest per tre anni, dal 2014-2015 fino al 2016-2017. Il vincitore è Marco D. Facciamo allora i complimenti a Marco. Alessandro, adesso, siccome non l'abbiamo mai citato, possiamo parlare un minuto della Consult Invest, di quanto sei stato orgoglioso, insomma, perché quell'anno la VL era senza sponsor. Siete entrati, poi dopo è arrivato Carpegna Prosciutto, però in quegli anni lì, così difficili, la vostra azienda è stata tanto importante. Ma sì, diciamo che per noi è stata una scelta, se vogliamo, anche abbastanza casuale. Non era una cosa che sicuramente la mia direzione aveva in mente di fare, anche perché mai pubblicizzati sicuramente nello sport, pubblicizzati solo nel nostro settore finanziario. però diciamo che si sono incrociate una serie di situazioni in quel 2013, in cui la nostra azienda diceva vogliamo investire un po' a livello di marketing in quella zona, organizziamo qualcosa per voi, a livello, non so, dimmi te, facciamo una presentazione particolare in città, così, era l'anno in cui la famiglia Scavolini abbandonava la situazione, e ho detto ma perché no, vogliamo provare a entrare? Ovviamente mi dissero vedi te, ma noi non ne capiamo assolutamente niente di questa cosa. E da lì è partita tutta l'avventura, diciamo siamo partiti un primo anno, abbiamo fatto una sorretta di prove tecniche di trasmissione nel 2013, poi dal 2014 abbiamo deciso di fare un passo importante, dando il nome con grande orgoglio alla squadra per tre stagioni. E ancora oggi ci siamo. Credo di poter dire, senza ombra di smentita, che in questi ultimi 11 anni sono probabilmente di questo lotto di consorziati, il consorziato più anziano, quello che diciamo ha investito di più insomma in questa società in questi anni. E per tornare anche un po' al discorso del ruolo che mi sono un po' cercato in questi ultimi tre anni, è stato anche un po' per, fra virgolette, ringraziare l'AVL di tutto quello che ci ha dato, che mi ha dato, che ha dato a noi come gruppo. Penso che per il vostro gruppo sia stata una bella pubblicità. Ma sì, assolutamente sì, per noi è stato un modo di pubblicizzarci molto importante, sicuramente ha aumentato la nostra visibilità in zona, ma anche a livello nazionale. Per noi è stato un grande onore e d'orgoglio, soprattutto sostituire come main sponsor un'azienda come Scavolini, che è stata sicuramente... Avete avuto anche molto coraggio perché lì nessuno se la sentiva di entrare dopo Scavolini. Quindi diciamo anche a chi ci guarda, alla fine portare quel nome sulle maglie bianco-rosse è un aiuto per un'azienda. Devo essere sincero, guarda, racconto un piccolo aneddoto. Quando entrammo il primo anno, Ario, mi ricordo, ci fece una proposta, ma guarda, se aumentate un po' la cifra io vi posso dare la lunetta di centrocampo. Mi ricordo che il mio amministratore delegato mi chiese, ma la lunetta di centrocampo cosa significa una palacanella? Guarda che il nostro logo andrebbe lì al posto di Scavolini, ma solo il nostro ce ne sono anche altri. No, dico, sarebbe solo il nostro, il posto di Scavolini. Beh, se è così, allora dai, facciamo un passo leggermente più lungo e andiamo a fare la lunetta di centrocampo. Questo per dire che per noi è stato un grande orgoglio entrare a Pesaro, ma soprattutto sostituire un marchio che per 38 anni è stato leader assoluto, ma non solo nel basket italiano, ma direi nel basket europeo, perché se non sbaglio in Europa non c'è mai stato nessuno che ha legato per così tanti anni il nome. E infatti Pesaro era conosciuta per il basket per tanti anni fuori, no? Diciamo che ancora oggi si dice che se qualcuno conosce Pesaro nel mondo lo conosce per una di queste tre cose, o Gioacchino Rossini, o Valentino Rossi, o la squadra di palacanestro. Esatto. Quindi noi, anche quando la squadra veniva chiamata ancora Scavolini e il mio sponsor avevamo noi, noi comunque lo vivevamo in assoluta tranquillità la cosa ed era importante. E ancora oggi, sento qualche tifoso che dice, andiamo a vedere la Scavo. Certo, se lo sente magari il Carpegna prosciutto della situazione, magari potrebbe non essere contento di dire, ma sai, investo tanti soldi, poi ancora mi confondono con l'azienda Scavolini. Io l'ho vissuta benissimo la cosa, devo essere sincero, perché per me, ripeto, è stato solo un orgoglio, un enore entrare al posto di un marchio così importante. Noi siamo stati molto contenti di fare questo e credo che anche il ruolo che ho assunto è stato proprio fatto per dare riconoscenze, dare aiuto alla VL, perché poi alla fine se riesci a sviluppare meglio il discorso tifosi, dai una mano nella campagna abbonamenti. Anche qui non ne abbiamo parlato, ma sicuramente quest'anno è stata fatta una scelta importante. Siamo andati contro tendenza abbassando i prezzi di tribuna e di gradinate, cose che sicuramente ci ha portato comunque oltre 500 abbonamenti in più rispetto all'anno precedente. Secondo me sono risultati che comunque contano. Poi adesso ci permettono di portare ogni domenica oltre 5.000 spettatori, che credo sia un orgoglio per la città. Per una città così piccola, sì, perché bisogna sempre tener conto, comunque Mirko... Abbiamo 90.000 abitanti. Ecco, è una città di 90.000 abitanti, averne 5.000 al palazzo e magari chissà quanti che ascoltano la radio, leggono il giorno dopo, seguono... Per due giornate siamo stati il primo pubblico in Italia, non dimentichiamoci. Abbiamo giocato nove di giornate due volte, il pubblico di Pesaro è stato il primo pubblico in Italia con un numero di presenze. Credo che di queste cose dobbiamo essere orgogliosi, posso con la città, assolutamente. E vuol dire anche che questa passione, prima di spegnerela, ce ne vuole. Ce ne vuole, assolutamente. E quindi grazie anche questa sera per essere stati con noi all'ascolto. Io ringrazio tantissimo Mirko Faccenda... Grazie a voi. ...e Alessandro Mengucci per essere stati ospiti del nostro studio. Ringrazio Giovanni Zidda che stasera ha lavorato come un matto a leggere tutte le vostre domande. Ringrazio Andrea Sabatini per la regia. Auguriamo in bocca al lupo alla VL per questa trasferta di Reggio Mila che, lo ricordiamo, si gioca sabato sera alle 20.30 in diretta su Eurosport 2 e noi vi diamo appuntamento a giovedì prossimo con Insieme a Canestro. State bene! Hai visto quante novità al Conad di Montecchio? Ampi ambienti completamente ristrutturati dove puoi trovare la pulizia e l'igiene di sempre in ogni reparto. Sì, bellissimo! Ormai è il mio punto di riferimento. Trovo sempre prodotti di qualità del nostro territorio molto convenienti per non parlare della grande professionalità del personale. E ti ricordo che al Conad di Montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto. Noi andiamo al Conad di Montecchio! Da più di un secolo sul territorio, macchini ceramiche è sinonimo di professionalità e consulenza specializzata nella vendita di materiali edili, pavimenti rivestimenti, parquet, ceramiche ed arredo bagno delle migliori marche. Ogni giorno troviamo la migliore soluzione per ogni vostra esigenza. La nostra disponibilità, competenza e servizio non hanno prezzo. Laura e Marco ti aspettano presso lo showroom a Rio Salso di Tavuglia. Macchini ceramiche, sempre al vostro servizio. Qualche volta mi piace ripensare alla magia che avevano i viali del monte. Più mi ci perdo, più mi convinco che ricordare come erano non è troppo diverso dal desiderare che rimangano così. Immutati, ma sempre differenti. Pronti a rinnovarsi, anzi a crescere, proprio come noi. Cercando di trasformare il nostro presente nel futuro che vorremmo. Cercando di trasformare il nostro presente nel futuro che vorremmo. Cercando di trasformare il nostro presente nel futuro che vorremmo.